Resta alta la tensione tra sindacati e ruzzoreti sul futuro degli oltre 100 lavoratori precari dell'azienda. Il personale in questione è anche quello che ha garantito negli anni il servizio idrico integrato nell'intera provincia di Teramo. Alcuni da oltre 10 anni prestano servizio a ruzzo, i quali sono inseriti strutturalmente nell'organizzazione aziendale e contribuiscono alla continuità e alla qualità del servizio in settori strategici. Qui c'è anche un tentativo di conciliazione che è scritto davanti al tribunale, se qualcuno vuole osservare la sentenza, c'è scritto chiaramente che l'azienda ha rifiutato persino un tentativo di conciliazione davanti al giudice. Quindi qui che non si è provato ad affrontare il problema è certificato da atti documentali, quindi vorrei dire, qui l'equivoco, chiedo scusa ma non c'è, qui non c'è purtroppo l'alibi né per l'assemblea dei soci che ha ricevuto lettere missive comunicati da parte nostra. Noi abbiamo fatto notare un'altra cosa, che senza i lavoratori attualmente precari non c'è il servizio. Questa situazione è per lo più attribuibile al blocco delle assunzioni che per anni non ha consentito di gestire un fisiologico turnover in un periodo di tempo in cui sono andate in pensione numerose unità lavorative. Senza queste competenze professionali non c'è il servizio essenziale acqua per il territorio. Quindi questa è una questione che va affrontata nella sua problematicità, cioè è sfuggita di mano. Cioè qui non c'è stata la possibilità volontà di attivare le selezioni per la risoluzione strutturale del problema. Cioè questi lavoratori hanno progressivamente sostituito nel tempo i lavoratori che sono andati in pensione. Oggi ci ritroviamo con un numero esorbitante. Tra un po' i lavoratori precari saranno maggioritari rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Fino a dove si vuole portare questa situazione? Cioè qualcuno lo deve dire.